Importante successo dell'Hockey Club Pistoia all'esordio in questa stagione nel campionato di Serie A 2 su Prato. La squadra diretta dal giocatore allenatore malese Raju Sandakasi ha infatti battuto in trasferta per 3-2 la quotata città del tricolore di Reggio Emilia, formazione indicata fra le probabili protagoniste nella corsa alla promozione. Per gli arancioni sono andati in rete l'altro atleta asiatico Kalik, lo stesso Sandakasi e Della Motta. Tutto il merito va ai giocatori perché sono stati a sentire i miei consigli e di Filippo e credo che nonostante tutte le difficoltà del campo piccolo abbiano giocato molto bene, soprattutto perché questa era una squadra, una delle favorite al passaggio di categoria e ci siamo comportati molto bene.